Le nostre lettere Otto ore di treno provocano il sonno in alcune persone e l'insonnia in altre. Quanto a me, ogni viaggio mi impedisce di dormire la notte successiva. Ero arrivato verso le cinque dai miei amici Mure e D'Artoux per trascorrere tre settimane nella loro proprietà di Abel. È una casa piacevolissima, costruita alla fine del secolo scorso da uno dei loro antenati e rimasta di loro proprietà. Di conseguenza, possiede quel carattere di intimità delle dimore che sono state sempre abitate, arredate e animate, tenute in ordine dalle medesime persone. Niente cambia là dentro, niente svanisce dell'anima della casa dove c'è ancora lo stesso mobilio e le cui tappezzerie, ma è rinnovate. Si sono logorate e scolorite sugli stessi muri. Nulla dei mobili antichi va perduto, spostati solo ogni tanto per fare posto a un oggetto nuovo che entra lì come un neonato fra sorelle e fratelli. La casa è su un'altura, in mezzo a un parco in un pendio che scende fino al fiume su cui è gettato un ponte di pietra a schiena d'asino. Oltre l'acqua si stendono prati dove vanno lentamente pingui mucche nutrite di erba grassa, dagli occhi umidi che sembrano pieni di rugiada, di nebbia e della freschezza dei pascoli. Mi piace questa abitazione, come tutto quello che desidero ardentemente di possedere. Vi torno ogni anno con infinita gioia. La lascio con rimpianto. Dopo aver pranzato con quella famiglia di amici, così tranquilla e che mi riceveva sempre come uno di loro, domandai al mio compagno Paolo Muret Quale camera mi hai assegnato quest'anno? La camera di zia Rose. Un'ora dopo la signora Muret d'Arthieu, seguita dai tre figli, due ragazze e un indemoniato ragazzino, si installava nella camera della zia Rose, dove non avevo ancora mai dormito. Quando vi rimaci da solo, cominciai a esaminare le pareti, i mobili, a ritrovare la fisionomia della stanza per adattarvi il mio stato d'animo. La conoscevo già, ma poco, soltanto per esserci entrato qualche volta e per aver osservato con indifferenza il ritratto a pastello di zia Rose, che dava il nome alla camera. Non mi suggeriva proprio niente quella vecchia zia Rose, dalla pettinatura a boccoli, sbiadita e quasi cancellata dietro il vetro. Aveva l'aria di una brava donna d'altri tempi, di una donna piena di buoni principi e di sani precetti, abile nell'enunciare una massima morale come una ricetta di cucina. Una di quelle vecchie zie che paralizzano l'allegria e sono l'angelo rugoso e triste delle famiglie di provincia. E del resto non avevo mai sentito parlare di lei. Non sapevo niente della sua vita né della sua morte. Era di questo secolo o di quello precedente. Aveva lasciato questa terra dopo un'esistenza piatta o agiata. Aveva reso al cielo un'anima pura di vecchia zitella, un'anima placata di sposa o tenera di madre o scossa dalla passione. Che cosa poteva importarmi? Soltanto quel nome, Zia Rose, mi sembrava un po' ridicolo, troppo comune grossolano. Prese un candelabro per osservare il volto severo appeso in alto e in una cornice antica di legno dorato. Poi, dopo averla trovata insignificante, sgradevole, persino antipatica, esaminai il mobilio. Erano tutti dell'epoca di Luigi XVI, della rivoluzione e del direttorio. Niente, nemmeno una sedia, nemmeno una tenda era arrivata dopo di allora in quella camera che odorava di ricordi. Un odore sottile del legno delle stoffe, dei sedili, delle tapezzerie, in un ambiente dove un cuore ha vissuto, ha amato, ha sofferto. Poi mi coricai, ma non riuscì a prendere sonno. Snervato, decisi di alzarmi dopo un paio d'ore, di scrivere qualche lettera. Aprii un piccolo scrittoio di mogano listato di ottone, situato tra le due finestre, con la speranza di trovarvi carta e inchiostro. Ma vi rinvenne solamente una cannuccia molto consumata, fatta con un aculeo di porcospino, e un poco mordicchiata una delle estremità. stavo per rinchiudere il mobile quando il mio sguardo fu attirato da un punto lucente. Era una specie di bottone, giallo, che formava un piccolo rilievo rotondo nell'angolo di una tavoletta. Lo grattai con un dito e mi sembrò che si muovesse. Lo presi tra le due unghie e tirai più che potevo. Uscì piano piano. Era una lunga spilla d'oro insinuata e nascosta in un fiorellino del legno. Perché? Pensai subito che doveva servire a far scattare la molla con cui si apriva un ripostiglio segreto e mi mise a cercarlo. Fu una cosa lunga. Dopo due ore di investigazioni scoprì un altro fiorellino quasi di fronte al primo, ma in fondo a una scanalatura. Vi affondai la spilla e una tavoletta mi saltò in faccia. Vidi due pacchettini di lettere, di lettere ingiallite legate con un nastro azzurro. Le ho lette e ne trascrivo qui due. Dunque, diletta mia, se volete che vi renda le vostre lettere, eccole, ma con grande pena. Di che mai avete paura? Che le smarrisca? Ma sono sempre sotto chiave. Che me le rubino, ma io le tengo d'occhio, perché sono il mio tesoro più caro. Proprio. Ho provato una pena infinita. Mi sono domandato se non ne avevate in fondo al cuore qualche rammarico. Non c'è il rammarico di avermi amato, poiché so che mi amate sempre, ma il rammarico di aver espresso su un foglio bianco questo amor vivo in ore nelle quali il vostro cuore si confida non a me, ma alla penna che tenevate tra le dita. Quando si ama, si sente il bisogno delle confidenze, un tenero bisogno di parlare o di scrivere, e parliamo e scriviamo. Le parole volano, le dolci parole fatte di musica, d'aria e di tenerezza, calde, leggere, evaporate e non appena dette che rimangono nella memoria soltanto, ma che non possiamo vedere né toccare né baciare, al contrario delle parole che furono scritte dalla nostra mano. Le vostre lettere, sì, ve le rendo, ma quanta pena. Certo, dopo averle scritte, avete avuto il delicato pudore dei vocaboli incancellabili, nel vostro animo sensibile e timoroso, anche una sfumatura impercettibile, basta ferire. Avete deplorato di aver scritto a un uomo che lo amavate, vi siete ricordata qualche frase che ha colpito le vostre rimembranze e vi siete detta di quelle parole farò tanta cenere. Siate paga, siate tranquilla, ecco le vostre lettere, vi amo. Amico mio, no, non avete compreso, non avete indovinato. Io non mi rammarico, non mi rammaricherò mai di avervi detto la mia tenerezza. Vi scriverò sempre, ma voi mi renderete le mie lettere non appena le avrete ricevute. Vi urterò vivamente, amico mio, dicendovi la ragione di questa esigenza, che non è poetica come avete creduto, ma pratica. Ho paura, non certo di voi, ma del caso. sono colpevole e non voglio che il mio fallo possa essere scontato da altri all'infuori di me. Comprendetemi bene, potremmo morire, io o voi. Potreste morire per una caduta da cavallo nel momento che cavalcate ogni giorno. Potreste morire ad un colpo in un duello, per una malattia di cuore, per un incidente di carrozza, in mille modi, poiché, se c'è una morte soltanto, vi sono più modi di soccombere che non giorni da vivere. Allora, vostra sorella, vostro fratello e vostra cognata troverebbero le mie lettere. Credete che mi vogliono bene? Io non lo credo affatto. E poi, anche se mi adorassero, è possibile che due donne e un uomo, conoscendo un segreto, un segreto simile, non lo propalino? Ho l'aria di dire una bruttissima cosa, parlandovi anzitutto della vostra morte e sospettando poi la indiscrezione dei vostri. Ma noi tutti moriremo un giorno o l'altro, è vero? ed è quasi certo che uno di noi due precederà l'altro nella tomba. Bisogna dunque prevedere tutti i pericoli, anche questo. Per quanto mi riguarda, conserverò le vostre lettere insieme alle mie, nel segreto del mio piccolo scrittoio. Ve le mostrerò lì, nel loro serico nascondiglio, dormenti fianco a fianco, piene del vostro amore, come due innamorati in una tomba. Mi direte «Ma se voi moriste per prima, vostro marito le troverà, queste lettere?» Oh, quanto a questo non temo nulla. Anzitutto egli non conosce il segreto del mio scrittoio e poi non le cercherà e quando anche le trovasse, dopo la mia morte, non temo nulla. Avete mai pensato a tutte le lettere d'amore trovate nei cassetti delle defunte? Io ci penso da tanto tempo e appunto lunghe riflessioni a questo proposito mi hanno decise a domandarvi le mie. Pensate un po'. Mai, mai, capite? Una donna brucia o lacera o distrugge le lettere nelle quali si dice di amarla. In esse c'è tutta la nostra vita, tutta la nostra speranza, tutta la nostra attesa, tutto il nostro sogno. Questi foglietti che portano il nostro nome e ci carezzano come tante cose dolci sono reliquie e adoriamo le cappelle noi donne, specialmente le cappelle in cui siamo le sante. Le nostre lettere d'amore sono i nostri titoli di bellezza, i nostri titoli di donna, i tesori del nostro cuore. No, no, una donna non distrugge mai questi archivi segreti e deliziosi della sua vita. Ma noi moriamo al pari di tutti e allora allora queste lettere qualcuno le rintraccia. Chi le rintraccia? Il marito? E che fa allora? Nulla. Le brucia lui. Ah, ho assai riflettuto a questo. Assai. Pensate che tutti i giorni muoiono donne che furono amate, che tutti i giorni le tracce, le prove del loro fallo cadono nelle mani del marito e non scoppia mai uno scandalo, non ha mai luogo a un duello. Pensate, mio caro, che cosa è l'uomo, il cuore dell'uomo. Ci si vendica ad una vivente, ci si batte con l'uomo che vi disonora, lo si uccide finché sei viva. Perché? Già. Perché? Non so, precisamente. Ma se dopo la sua morte si trovano simili prove, le si brucia. Non si sa nulla e si continua a tendere la mano all'amante della morta. E si è assai lieti che queste lettere non siano cadute in mani estranee, assai lieti di saperle distrutte. Dunque, io posso conservare le nostre lettere, che in mano vostra sono una minaccia per entrambi. Provatevi a dire che non ho ragione. Rose. Avevo alzato gli occhi verso il ritratto di zia Rose e guardavo quel viso severo, rugoso, un po' duro. Pensavo a tutte le anime di donna che non conosciamo, che immaginiamo tanto diverse da come sono in realtà e di cui non riusciamo a capire l'innata, semplice furberia, la tranquilla ambiguità. Mi tornò così alla mente un verso di Vigny. sempre quel compagno il cui cuore non è sicuro.